Tutelare la salute pubblica dell'intero territorio di Bernalda attraverso un'intensa attività di screening è l'obiettivo dell'amministrazione comunale del centro ionico che ha inteso organizzare a fianco dell'attività dell'ASM una mappatura completa della cittadinanza attraverso i test sierologici. A riguardo abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno. Abbiamo deciso di offrire a prezzo di costo l'esecuzione dei test sierologici e dei test antigenici rapidi, ovvero i tamponi rapidi, a tutti coloro che rientrano dall'università o per motivi di lavoro. Noi sappiamo che durante queste festività natalizie come da tradizione molti fanno rientro al paese di origine e quindi per limitare eventuali rischi di contagio abbiamo dato la possibilità di prenotare questo tampone che viene eseguito in locali idonei da personale medico preparato. È una possibilità in più, oltre a quella dello screening per quanto riguarda le categorie a rischio, tutto il Consiglio Comunale ha votato una delibera per attivare un metodo di tracciamento complementare, quindi potenziando il tracciamento tradizionale dell'asma. E quindi a Bernalda vengono eseguiti test antigenici anche ai contatti più lontani del positivo. Questo appunto permette di circoscrivere eventuali focolai molto più rapidamente. Inoltre per un'eventuale ripresa dell'anno scolastico abbiamo deciso di sottoporre a tampone antigenico tutta la popolazione scolastica, le insegnanti e anche gli operatori per garantire un rientro a scuola in sicurezza. E questo è già stato fatto per le scuole dell'infanzia, per gli asili, che tuttora si stanno svolgendo dopo aver testato tutta la popolazione residente. Chiaramente questo l'abbiamo riservato solo al presso in cui era stato ritrovato un bimbo positivo. Secondo me quella dei test rapidi è la via maestra da seguire e che i comuni dovrebbero seguire per limitare le positività, quindi le occasioni di contagio e soprattutto riconoscere i positivi asintomatici il prima possibile. È una tipologia di attività che noi abbiamo messo in campo sin dai primissimi momenti della pandemia. Voglio ricordare a tutti che il Comune di Bernalda era pronto ad eseguire i test serologici rapidi già ad aprile, quindi molto molto presto. E ora continuiamo con l'esecuzione dei test antigenici.